...pista 1.8 Always Radio d'India 7087, allineamento decollo, pista 1.8 ...pista 1.8 ...decolliamo. ...pista 1.8 ...pista 1.300 piedi. ...pista 1.8 ...pista 1.8 ...pista 1.8 ...pista 1.8 Credo Sasselmonte, ancora là. No, ma domino di Sasselmonte, che è questa qua. Andiamo alla base. Sasselmonte, conoscono. Quindi come visibilità non mi è male. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.